Elezioni. Calenda. Io a fare la mucchiata contro i sovranisti non ci sto. Da Ascolta la Notizia. Io a fare la mucchiata contro i sovranisti non ci sto. Se vogliono l'Unione bis, facciano pure. Senza di noi. Lo ha detto a Repubblica il leader di azione Carlo Calenda. Per ora, il PD, non mi ha fatto nemmeno una telefonata. Mi ha chiamato solo il sindaco di Firenze. Dario Nardella, persona che stimo, ha fatto sapere l'eurodeputato. Il senatore Luigi Zanda ha parlato di alleanza elettorale per settembre. Nel PD c'è gente che ancora oggi si riconosce in conte più che in draghi. Vedi Goffredo Bettini, ha detto ancora Calenda, che ha domandato, se nella coalizione ci sono anche persone come Nicola Fratoianni o come Angelo Bonelli, che hanno marciato contro il rigassificatore di Piombino. Di che parliamo?